La Regione Toscana approva il bilancio, manovra da 12 miliardi, accordo su un maxiemendamento bipartisan. Manovra finanziaria regionale, via libera del Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la manovra finanziaria regionale dopo un lungo dibattito conclusosi con l'accordo su un maxiemendamento bipartisan. Il bilancio vale circa 12 miliardi di euro, di cui oltre 7,5 miliardi di fondo sanitario e 2,3 miliardi di programmazione europea. Dai documenti economici emerge uno squilibrio di parte corrente per il 2023 pari a circa 150 milioni, che è stato riassorbito con lo spostamento di alcune politiche di spesa. Il bilancio quest'anno è un bilancio di investimenti, 100 milioni in più nella parte corrente del bilancio a questo dedicati. La definizione di un impatto e di un impegno forte della Regione per la realizzazione con 200 milioni, 195, dell'ospedale di Livorno, lo sviluppo dei lavori di potenziamento a Cisanello a Pisa, la realizzazione della Darsena Nord, della cosiddetta Darsena Europa al porto di Livorno, che consentirà un pescaggio da 12 a 20 metri, quindi tante più navi potranno attraccare, di interventi che vanno poi in modo più puntuale a coinvolgere il territorio. Siamo davvero felici di come arriviamo oggi in Aula. Questo è un lavoro collettivo di tutto l'ufficio di Presidenza che è riuscito a non aumentare la richiesta di fabbisogno alla Giunta regionale anche in un tempo difficile come questo, dove gli aumenti dei costi dell'energia, la rivalutazione dei prezzi, ci portano nelle condizioni ad avere meno disponibilità reali. Perché siamo riusciti a farlo? Lo abbiamo fatto perché dall'inizio della legislatura ci siamo posti un obiettivo, quello di razionalizzare i costi della politica e allora siamo riusciti a recuperare quasi un milione di euro. Lo abbiamo fatto con la norma approvata qualche settimana fa sul contenimento degli aumenti dei vitalizi degli ex Istat, degli ex consiglieri regionali. Lo abbiamo fatto facendo una scelta, quello del lavoro agile da fare il lunedì e il venerdì in parte delle nostre strutture. Questo ci permette di risparmiare quasi 100 mila euro. Lo abbiamo fatto continuando in una strada tracciata già negli scorsi anni che è quella del contenimento al finanziamento ai gruppi politici. Insomma una scelta di sobrietà che ci ha permesso però di utilizzare quelle risorse per poter finanziare progettualità rivolte ai giovani e alle donne. L'obiettivo è sempre uno, fornire servizi migliori ai cittadini cercando di riorganizzare il lavoro e utilizzare quelle risorse per ciascuno e ciascuna di loro. Tra i principali stanziamenti previsti per il 2023 ci sono 114 milioni sul capitolo istruzione con un aumento di 16 milioni rispetto ai 98,6 del 2022. Per i beni e le attività culturali si registra un incremento di 52 milioni mentre calano di 2,7 milioni le risorse per le politiche giovanili sport e tempo libero 17,3 milioni del 2023 rispetto ai 20 milioni del 2022. 11 milioni in più per il turismo si passa dai 7 milioni del 2022 ai 18,3 milioni del 2023. Oltre 60 milioni aggiuntivi per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa, 75,6 milioni contro i 14 milioni del 2022. 49 milioni finanziati nell'ambito del PNRR, di cui 30 destinati all'edilizia residenziale pubblica. Il capitolo trasporti si mantiene quasi inalterato e passa da 961 milioni del 2022 a 955 milioni del 2023, di cui 640 milioni per il contratto del TPL Ferro, Gomma e Mare. Meno 5 milioni di risorse per il soccorso civile, mentre crescono di 52 milioni gli investimenti sul capitolo diritti sociali e famiglia, da 65 a 117 milioni. Crescono anche le risorse per lo sviluppo economico, più 118 milioni, passando dai 74 del 2022 ai 192 del 2023. E quelle per le politiche del lavoro, più 104 milioni, dai 97 milioni del 2022 ai 201 del 2023. Maggioranzi opposizione hanno inoltre trovato un accordo su un maxiemendamento con misure bipartisan, tra cui un contributo al sistema neve, ai comuni con meno di 20 mila abitanti, per le famiglie con figli disabili e per trattamenti di estetica oncologica. Difendono a spada tratta la manovra PD e Italia Viva. Si tratta di una manovra impegnativa perché fa fronte a quelle che sono le esigenze dei territori della comunità toscana, con un riferimento anche alla legge di bilancio che è in discussione e approvazione in Parlamento, che purtroppo non tratta troppo bene degli aspetti fondamentali come quelli della sanità pubblica, perché se la manovra verrà approvata in Parlamento così come è stata presentata, ci saranno dei tagli alla sanità pubblica e sappiamo che la sanità toscana è una delle più pubbliche che abbiamo nel nostro Paese. In realtà la manovra che è stata presentata è una manovra che dal punto dei volumi cresce, siamo quasi a 12 miliardi, anche in virtù di un aspetto molto positivo, che sono circa 800 milioni in più che arriveranno dall'Europa per quanto riguarda la programmazione ordinaria, quindi i fondi che riguardano il 21-27. Nonostante le difficoltà che ho detto, l'aumento dei costi dell'energia, che si aggiungono a queste difficoltà, non sono previsti aumenti di tasse e questo è un altro aspetto che intendiamo sottolineare. Dopodiché con il nostro emendamento, maxi emendamento, che abbiamo chiesto al Presidente, abbiamo inteso anche migliorare questa manovra su alcuni aspetti che per noi sono fondamentali perché, come abbiamo sempre detto, il lavoro, la salute, il sociale, gli investimenti sono le nostre priorità. Allora abbiamo chiesto di aumentare le risorse per quanto riguarda il sostegno alle famiglie che hanno al loro interno dei disabili gravi. Abbiamo chiesto di prevedere delle risorse in continuità con quanto avvenuto negli anni scorsi per i piccoli comuni, che spesso sono i piccoli comuni montani e delle aree interne. Abbiamo chiesto di aumentare risorse per sostenere chi ha fatto domanda nei bandi della legge cosiddetta dei custodi della montagna, di cui siamo stati promotori e che ha avuto un grande successo. Sono state oltre 400 le domande che sono pervenute. Abbiamo chiesto di poter implementare le risorse per quanto riguarda una serie di interventi di investimento anche puntuali per dare risposte a quello che ci hanno chiesto i comuni e un'attenzione nei confronti dei gestori delle RSA e delle RSD, quindi i nostri anziani che noi speriamo, anche attraverso il sostegno della regione, non vedono l'aumento delle reti. Ecco, questo è il senso del contributo che il Partito Democratico ha chiesto al Presidente per implementare e per migliorare la manovra che è arrivata. E quindi crediamo che in questo modo possiamo dare anche nel prossimo anno le risposte di cui la Toscana ha bisogno in una fase che comunque si preannuncia molto impegnativa per le famiglie, per le imprese, ma anche con il sostegno di quello che è contenuto in questo bilancio e sperando che alcuni grandi interventi riprendano o prendano avvio, penso al sotto attraversamento ferroviario per quanto riguarda Firenze oppure i lavori finalmente della Dars in Europa, possiamo guardare al 2023 con speranza e comunque convinti che siamo qui per dare un contributo importante alle nostre comunità. Il Consiglio approva un bilancio che mette risorse importanti per le infrastrutture scolastiche, per la cultura, per gli invasi, per i comuni, tante questioni che vengono affrontate, asili gratis per i bambini in famiglie fino a 35 mila euro, risorse per famiglie che hanno dei minori disabili, risorse aggiuntive per RSA e RSD, una manovra che è sociale, che è economica, che alla fine si chiude non aumentando le tasse così come te l'aveva chiesto, non viene aumentato il bollo, non vengono aumentate le addizionali IRPEF e soprattutto i comuni trovano risposte importanti. Penso a dei comuni che avevano sollecitati interventi storici, penso a Marradi dove si può fare lo svuotamento di un invaso, penso a Bagnarri per rispetto a interventi infrastrutturali, penso anche a Castrina Inchianti rispetto a iniziative finalizzate allo sport e nel contempo altri comuni come Mulazzo, altri comuni importanti ovviamente come Pistoia, ma nello stesso tempo anche in realtà importanti nell'area di Pistoia, nell'area di Pisa, nel ritrovamento che abbiamo chiesto con forza a Ponsacco rispetto a una soluzione di problematiche di carattere abitativo e poi risposte infrastrutturali che vanno per tutta la Toscana in termini culturali e sociali. Credo un bilancio positivo che consolida la maggioranza di governo, Piedite e Raviva hanno ritrovato un accordo nel metodo del lavoro, un sostegno al Presidente Gianni per arrivare a metà mandato più forte di come siamo entrati in queste esperienze. Critiche di metodo e di merito da parte del Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Lega. Il commento è presto fatto, un documento di 760 pagine, un documento economico finanziario consegnato al Consiglio una settimana prima della discussione in aula con un accavallarsi di commissioni che ha reso praticamente impossibile ogni approfondimento e questo anche perché sia il Presidente del Consiglio che è assessore anche al bilancio e gli altri assessori hanno mancato di farci avere tutta la spiegazione politica di come era stato impostato questo documento di finanza. Hanno lasciato i funzionari a spiegarci degli aspetti tecnici. Se poi andiamo a guardare i contenuti, tralasciando il metodo, andiamo a vedere che si tratta di una riproposizione di vecchi progetti che si trascinano da anni e che vengono spostati di anno in anno con l'aggiunta dei bollini colorati dei goals dell'agenda 2030 dell'Unione Europea come a fare una sorta di macchiage per far vedere che in realtà seguiamo quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea. Ad una lettura appena più attenta si vede in realtà che la Regione Toscana ancora naviga a vista su quasi tutti i fronti. Per quanto ci riguarda, pur cercando di tenere un clima collaborativo all'interno della seconda commissione, cercando di togliere per quanto è più possibile la retorica classica dell'antagonismo opposizione e maggioranza, ci aspettavamo da questa manovra molto più chiarezza, un disegno, una strategia e anche un po' di coraggio. Le materie che sono all'ordine del giorno della seconda commissione risentono moltissimo di tutto quello che sta accadendo, dell'inflazione, del post-covid, della crisi energetica, della guerra in Ucraina, del rincaro dell'energia, tutto chiaramente va a pesantire molto quelli che potevano essere gli interventi sulla seconda commissione, però appunto ci sembra che manchino due cose, manca una risposta, manca una risposta chiara e manca chiaramente una risposta che fosse energica, che fosse in grado di liberare le energie invece in tutti i settori, dal turismo all'agricoltura, passando per il commercio e per l'artigianato. Nonostante questo chiaramente non ci sentiamo smentiti perché le incertezze sul futuro di sviluppo toscana che in questi giorni abbiamo risentito in aula, per non parlare del fallimento pressoché completo della tabella di marcia sul PNRR, non è che ci gratificano. Siamo fortemente preoccupati, quindi cosa potevamo fare? Di più? Assolutamente forse no. Potevamo fare un pochino prima e sicuramente molto meglio. La manovra di bilancio di fine anno della regione toscana è come un regalo di Natale reciclato. In sostanza la parola d'ordine è proroga, cioè si prende quello che non si è fatto negli anni precedenti e si ripropone. Certamente è un bilancio che non ha una completezza perché la parte fondamentale che è il bilancio della sanità lo vedremo alla fine di aprile e quindi lì capiremo se veramente la giunta regionale metterà le mani nelle tasche dei toscani per aumentare magari qualche tassa come si è detto l'IRPEF per esempio. In sostanza è un bilancio deludente perché poi va a toccare degli interventi anche specifici che sono degli interventi che in realtà dovrebbero poi riguardare nella completezza tanti territori. Cioè non si capisce perché si deve andare magari a ristrutturare un teatro di una tale cittadina oppure si deve andare a completare un'opera pubblica di un certo comune e non fare i bandi cioè di non rendere questa possibilità a tutte le amministrazioni comunali dalle più piccole alle più grandi dei nostri territori. Quindi si fanno degli interventi specifici senza capire il perché. Questo è un altro elemento negativo. Quindi è un bilancio che in generale non ci può soddisfare ma fondamentalmente perché manca di programmazione, manca il piano regionale di sviluppo e questo chiaramente pone mancanza alla progettualità, a quella che può essere la programmazione della nostra attività regionale. Mancano i piani regionali sull'energia, sull'ambiente. Si fanno tante chiacchiere per esempio con gli stati generali, da un lato si fanno gli stati generali della salute poi si fanno gli stati generali dello sport, poi si fanno gli stati generali della cultura poi si fanno gli stati generali dell'ambiente ma non si fa quello che dovremmo fare da legislatori della regione toscana cioè intervenire sugli atti e fare i piani e legiferare. Se per esempio il piano regionale sulla sanità del 2015 non funziona perché vediamo chiaramente che il sistema non funziona e lo vediamo in primis dalle liste di attesa bisogna lavorare sul nuovo piano sanitario regionale quindi non si sta lavorando in maniera seria ma si sta navigando nuovamente a vista. Grazie. Grazie.